Napoletani, veniamo a prendervi. Chi sono i napoletani? Per il vulcano di prima. I napoletani, vi veniamo a prendere! Vai a prendere quell'altro napoletano e portalo giù. Ok. T'abbiamo preso, un napoletano. Mi l'ho catturato. Abbiamo il primo. Abbiamo un mandato da parte del mondo. Pegnete quel vulcano, stro. If you like mutual video, you will love mutual life. Link in the description below. Noi lo sappiamo che ogni napoletano ha on and off del vesuvio. Oh, ma Andri, stasera Fenice ha la nonna che giocherà con noi dopo. Eh sì, perfetto, meglio. Ok, ma scusami, ma facciamolo venerdì, cioè che domani... Più un'ora. No, no, adesso. Sì, c'abbiamo il tempo. Ma domani, vecchio, venerdì, tredici. E lo facciamo anche domani. Ok, ok. Domani un altro. Domani un altro? Che bello, amici. Non vedo l'ora di mandarmi le... sennò da sotto casa. Già, quando la vi non mi piace. Però dopo troviamo a Roger. Già mi stanno suotando le mani. Dai, ragazzi, mamma mia. Oh, Andrea, ma vai a fatti pigliar nel culo. Non ho capito, ma che cazzo? Io non me lo ricordo sto gioco. Eh, meglio. Salve. E gioca. Ma che cazzo? Yo, bro. Yo, brothers. Yo, brothers. Mi senti? Io non sento nessuno. Non dovete urlare. Io ho perso il timpano. Ah, ragazzi. Arcan! No, Andri. Andrea, 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 Andrea. Brother! Bro, mi senti? You listen? Ah, che cazzo? Ma è al minimo il volume. Oddio, oddio. Ma che cazzo? Ma che cazzo stai facendo? Allora, è veramente preoccupante. Io, Andrea, appena hai detto una cosa, ho sentito una caga. Ah, non mi cavare nelle orecchie. Sei gigantesca! Che cazzo hai la trippa! Non giudicare. Parliamo su disco, non ti corro. Parliamo su disco. Antonietta, stai fermo. E ho finito il fiato. Aspetta, aspetta. Andri, girati, girati. No, ho finito il fiato. Allora, che mappa facciamo? Dimora, castello o asilo? Cioè, asilo sarebbe bene. Asilo, no. No, asilo, no. Asilo, no, ti prego. No, non è un asilo. È tipo, cioè, tradotto male in italiano. È tipo il manicomio. Ah, asylum! Sì, eh, si pare tra tutto stortissimo. No, l'asilo fa troppa paura. Facciamo. L'asilo. Ragazzi, perché sono da solo? No, ragazzi, sono da solo, ho quinto. Ah, oh! Andri, si sento lontano. Andri! Dov'è quell'altro? Sono questo qui! Ora c'è la zero, mi sentite? Eh, sì, veramente forte. Scusa! Aia! Aia! Aia, Dio! No, non ritorniamo su Discord. Allora, in alto ci abbiamo scritto Find in the chest key. Mi sa che non ci conviene troppo correre, perché... Per la stamina. Ok, qua c'è un kit di autopsia, ragazzi. Dov'è? L'ho trovato per terra, ma ce ne eravamo. Perché hai picchiato il cadavere? No, lo volevo picchiare. Ho dovuto picchiare anch'io. Ah, se, posso esaminare i cadaveri. Forse. Questo no, però. Vuoi esaminare me? Vediamo. Dove sei? Qua. Aia! Scusami! Non volevo... Aspettate! Aia, Dio! Ragazzi? Sì? Sì. Per me. Oh, ciao. Come si sa lì? Bro, staffa, quel video che se resiste 100 secondi gli regalo 100 euro. Dai, uomo, che la tieni. Coglione. Ma io posso esaminare. Ma che si arrabbano? Beh, ma perché ci sono così tanti cadaveri? Oddio, guarda quello laggiù. Eh, ma la torcia si sta scaricando. E ci sono le batterie in giro. Ah, sì, ho capito. Però è molto difficile. C'è qualcuno dietro di me? Oh, qua ci sono le rune. Cioè, qua ci saranno da posizionare le rune. Chi è questo? Fini, ci metti di qui. Tu vuoi stare qua. Oh, ragazzi, ho trattato una chiave. Ho trattato una chiave. Ma che qua? Vieni, 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 vieni. Qua c'è una chiave. Qua c'è una chiave. Dove, dove? Ragazzi, qui, da me. Come vedete come sono fatte? Questa, devi usare il glow stick per... Vedi, con E? Ok. Preso. Bro, lo utilicchio, qualunque due. Qua ce n'è una. Ah, ma io c'ho la rune. Oh, ho trattato un pacchetto. Io una rune. Guarda il mio quanto è bello. L'ho un po' bruciato. Bello. A me ci vuoi ritrova il ritual state e il playstation room. Vieni. Qua, eccolo qua. Posiziona la rune. Ah, io. Ok, l'ho posizionata. Ok. Non è nulla. Vieni, felice. Ne dobbiamo prendere altre due. Una so già dove è, l'altra non ne ho idea. Eh, ma tocca trovare le chiavi. Eccole, eccole, eccole. Ma non correte. Eh, scusa, non è vero. Ho detto eccole, ma non è vero, scusate. Ok, sì. Dobbiamo usare il... Il glow stick per vedere le chiavi. Raga, perché... Raga, se c'è ancora la mia sinistra. Non so che... Non è davanti a voi, c'è l'ho dei passi. Hai sentito, felice. Ragazzi, qua ci sono due chiavi. Ma prendo, la prendo. Vai, prendi, prendi. Qua c'è ancora. Qua c'è ancora. Qua c'è ancora. Preso, preso, preso. Ma cosa è questa zona? Altra due. Ok, qua c'è una. No, regata, vieni due. Ok. Qua c'è una. Ok. Ok, prima. Ragazzi, se venite qua c'è l'ultima runa che possiamo prendere. Ah, ci trovano a batteri. Vieni, vieni. Qua a sinistra c'è un'ultima... Dove? C'è l'altra scatola. Parco! Ho dita il tuo calcio, ho avuto paura. Stiamo andando al... Il biscotto. C'è il coso dei rituali. No, 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 come? Vieni, vieni. C'è un biscotto in mano. Vieni, vieni. Ma come viene? Ma voi mi vedete? No. Allora. C'è l'ultima runa da mettere, vieni qua, finito. No, 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 non so come sto l'armiato. Siamo finiti qui. Vieni, vieni, vieni. Trava un kit per l'autopsia ed esamina un cadavere, perfetto. Ora andiamo ad esaminare i cadavere. Dove siete? Ok, dove stiamo ad usci? Una luce. Andi, 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 aspettare. Salve. Perché che non lascia nessuno non mi compri. Vieni, vieni, andiamo ad esaminare un po' i cadaveri. Ma perché sei così felice? Quante cazzo di volte lo fai al giorno? Oddio, lo stai esaminando. Se fa un pack opening. Ragazzi, ho un cadavere. Lo voglio... Dobbiamo portare il cadavere lì. Aspetta, aspetta, prendiamolo in una testa. Vai, prendetelo. No, no, va bene così. No, venite, venite qua. Ma prendetelo, prendetelo. Vai, vai. Questo. Ragazzi, ma è bellissimo. È senza denti. Bro, mi sono craftato un... Un Crispy McBaghan. Come si fa? Ma mi sono cazzato. Ok. Primi cinque. Primi cinque e poi pugnala. No, quello, quello lì in piedi, lì dietro. Ah, perché questo mi guardo? Olè. Antonietta, l'hai preso? Andiamo. Andiamo, mamma, andiamo. Andiamo, mamma. Era di qua. Non mi lasciate indietro. Porco 2, devo finire, vai te indietro. Ti raspiteranno, porco 2. Mamma, mamma. Oddio, devo fare una puzzetta. Questa è cacca, signore. Ok, ragazzi, provo questo cadavere qua. Ma sì. Ok, venite e mettete gli... Porco. Scusa. Ok, serve l'ultimo cadavere. Vai, finisci, farlo sto. No, no, sento, vediamo, vediamo. Vai, ma andate. Ah, so, forse ce n'è uno qua dentro. Dove... Ehm, no, non c'è, vieni, vieni. Vengo, vengo. Dobbiamo fare un rito statanico. No, no, noi stiamo a fare un bivacco degli scout. Ok, ho preso. Ma che stai pulendo? Ma stai pulendo per... Andiamo. E da dove l'hai preso? Perché sono solo? Ho sbagliato stanza. Sono in un bagno. Vieni, ci ti sembra a caso. Mi sono perla. Ok, eccomi. Ma dov'era il codo? Vieni, vieni dietro. Perché ha... Ha tremato la finestra. Ok, perfetto. Trova, portando per lasciare il famiglio. Dove entrare un portale, ragazzi. Qua? Ho trovato questo portale subito. Qua, forse. Bro, ho trovato questo cazzo di portale. Qua, ragazzi, qua, qua. Bro, ho trovato questo cazzo di portale. Corri velocemente. Ok, siamo ad... No, eh, sì. Ti piacerebbe. Stavo al secondo piano. Vieni, cosa vuoi? Ragazzi, sono da solo. No, no. Anch'io. No, no. Trova le chiavi. Dobbiamo ritrovare le chiavi, ragazzi. Fermati, fermati, fermati. Ho visto. Ok, testo. Che sono io. Vecchio, ma testo in video. Ho visto, ragazzi. Ho visto, ragazzo in video. Ciao. Guarda, ma Fenice è una signora francese. Ma sei una merda. È un brutto coglione di merda. Ti riempio di botte. Ragazzi, dobbiamo cercare di nuovo le chiavi. Vabbè, allora c'è il vecchio. Perché c'è una quarta persona? C'è una quarta persona. Chi è una quarta persona? È andata di là. Ti giuro che non è stata. Era uno. Oddio, chi è quello? C'è quello. Ma tu hai cambiato skin. Ma come hai cambiato skin? Ma è bruttissima. E ti ho detto, è diventata una parigina al tolocata. Ok, è una skin, ma c'era uno di là. Ma non c'era uno di là. Ma andiamo a salutarlo. No, io non voglio. No, bro, dai, che cazzo è sulla di me? Guarda, guarda, la luce. Guardalo, laggiù. Hai visto? Ma dove è chi? Lo ho visto? Non ci sono chiavi, però. Eccolo. Aspetta, ma se tu sei qui e tu sei qui... Eh, puttogno, dove c'è una quarta persona? Ma chi? Mi avevo dato a tirare un calcio. No, 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 finisci. Andiamo. 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 No, bro, 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 mi sto cagando. Ma vaffanculo, dove siete brutti ed efficienti? Ma ho urlato nell'orecchio. Dove stai? Chi è questo? Dove stai? Ma chi è questo? Oddio. Ma chi cazzo sei? Tu vaffanculo. Chi è quella? È una vecchia di me... Oddio. No, 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 va, va, va. Chi è? Ragazzi, devo entrare. Oddio. Se mi chiappa, io vestimio la vostra signora, la vostra madonna, chi di dove... Mi sto pisciando, mi sto pisciando, mi è uscito qualcosa, mi è uscito qualcosa. Fammi diventare nella carrozzina. Mettimi nella carrozzina. Venice, non andare avanti, vecchi di merda, vieni qui. Ragazzi, io sono in un'altra dimensione, what the fuck? Dove stai, Finice? Oh, sono tornato vivo. Ma Finice, dove sei? Ragazzi, io non ho cure. E come si trovano le cure? Vedo meglio così. Ma... Lì sei qualcuno. Oddio, vecchia di merda, corri. Oh, sono tolto. Chi è questo? Che cazzo è? Non era il mio, non era il mio, vecchia, no. Ma te non l'hai visto, il tipo. Ma chi è questo? Chi è questo? No, 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 finisci, mi fido solo della mia vecchia. No, 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 no. Ok. Ci sono anch'io qua dietro. Ma non è vero, non esisti, non esisti. Sono io. Io sono io. Sono enorme. Che senso sono enorme? Broder, venite dentro questa stanzetta. Ciao. Un medikit. Ma stai cambiato ancora? A me servirebbe un med... Ma questo non ha più la maglietta. Ma che cazzo fai? Ma perché è nuda? Ma perché attacca me sto figlio di puttana? Ma io non devi picchiare me. Ma fa' il culo, ma mi 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 mi. No, 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 no Sì, ma io, ragazzi, non vedo niente Sono io qua, sono io qua Ciao Ma sei cambiata ancora? Oh, adesso c'è i capelli rossi Ma che cazzo sai? Mi metto qua niente Ho visto un uomo, ho visto un uomo con le scarpe di roba Ragazzi, mi sa che sta attaccando Eh, eh Non mi attacca, non mi attacca, non mi attacca Porca Oh, che tavole Sono felice Oddio, l'ho visto, dove sei, dove sei, uomo nero? Sono qui No, broder, ce l'ho trovato a me Mi sta a fagliacuati, mi sta a fagliacuati Corri, corri via No, broder, ha rotto il cane Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove ero prima Sei tu questo? No, ci sono un sacco di uomini, ma voi non siete Dove sei? Sto intrippato, vecchio, mi sono fatto di una dose incredibile, te lo dico Questo chi è? Che c'è la luce blu? Nessuno L'ho notato, l'ho notato, l'ho notato che non ce l'ha nessuno Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu No, broder, sei tornato un bianco No, 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 non è lui, non è lui Se mi prende io, Milano, te la distruggo Dai, in vado, cattiva di me Porco Che è successo? Beh, lo sto, ha preso Eccovi Dove, dove, dove? Dietro Ah, eccoti Ciao Ma perché adesso? Ho preso una runa Ho preso una runa Sì, ok Ma, ma Fenice adesso c'è i capelli Che cazzo è diventato un cowboy? Broder, stimmi Fenice, che cazzo sei? Sono traumatizzato, sono per terra Eh, ragazzi Dove sono i miei amanti? Ciao Io non so spiegare quello che sto vedendo Io non Perché hai un salsicciotto nelle mani? In che senso? Mi sto pre... Quello non sei tu, porco il tuo signore Guarda, lo sapevo, lo sapevo Chi è questo? Oh, ce l'hai dietro Oh, ce l'hai dietro Andri, sei diventato nero Perché sei diventato nero? Sei diventato Michael Jordan Non ha senso questa cosa Non siete voi Oh, no, Andrea Mi hai guardato e ti sei messo un cappello Io questa cosa non lo so spiegare C'è uno Questo non sei tu Questo non sei tu Questo non siete voi Io mi sparo un calmante Ma ne sparo un altro ancora, ho capito Chi è che scrive? Che senso che scrive? C'è qualcuno che sta scrivendo Sta scrivendo al pc Cos'era? Chi è che sta ridendo di fianco a me? Nessuno Nessuno Chi è quello con la luce? Io forse Ok, stand a destra Ecco ti No, però sei diventato Biggie Com'è possibile? Sei diventato Biggie Ora hai un cappuccio, un cappello e una pistola Biggie, Biggie No, Biggie, dove sei? Sono qua Mi sono incastrato Mi sono incastrato Non so Come ci esco da qua? Sei tu? No, sei mia Ma perché? Non me l'hai trovato quel cappellino, dimmelo Ma è diventato anche colato Regà, regà L'avete sentito? Sì, il rumore, sì Ok, l'ho sentita a sinistra Non giriamo a sinistra Che se ne pensate? Oh, ho distrutto No, sei una puttana Oh, ragazzi, il rituale Qua, 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 qua Dove, dove, dove? Metto la rumore? Lo ho messo anch'io Ok, adesso ci serve un'altra chiave Oh, chiave Eccola, trovata Ho la chiave Ci serve la... Non mi piace se posso rumore Non è che me Vorrei dire neanche me Però ormai l'avete già detto Ok, ragazzi Adesso dobbiamo fare i cadaveri Aspetta Sto bene Sì, però Non lo so Stavo pensando Ok, ci servono i cadaveri Io ho la tachicardiana Nella vita reata Ma come fate Sparare Per sparare Se c'hai colpi Il numero 3 Ragazzi, per Cos'è sta canzone? Chi è la bionda? Non so Finisio, girati Ma perché adesso hai i capelli bianchi? Ragazzi, mi sento battere bruttissime Perché hai un cappellino rosa? Ok, sì, ragazzi Sto sentendo bruttissimi rumori Vabbè, finché li senti tu, va bene Qua non ci sono Oddio Che è successo? Oddio Chi è questo? Io Ma stai diventata il remione per un secondo Guarda, mamma Ho sparato Ho sparato, me sto cagato a tosto Qua c'è uno Qua c'è uno Spara, spara Spara, finisce Finisce Io santo No, ragazzi, è bruttissimo Questo cosa Ragazzi, venite qua Venite qua Venite qua Ce n'è uno Di cadavere Ho visto Fenice si attacca a me T'ammazzo Ragazzi, qui c'è un cadavere In teoria Beh, ti sei in cura Tocca da avere davanti a me Porco, due Porco Qua davanti però c'è Se qualcuno che sta orgasmando Arco di porco Ragazzi, sono di nuovo Nel punto brutto Arco che Finisce, c'ho la cacca nel culo Ragazzi, forse vi vedo Lì in fondo Sì Ma siamo in una stanza Chiusi Ok Perfetto Non siete voi Luce blu Avete acceso una luce viola? No Non siete voi Eri tu Non vedo io Rientro nella stanza Non ero in nessuna stanza ragazzi E allora Fenice non era Non era lui Ho un cadavere Oh, venuto, siete voi Eccomi No, brodo, hai una felpa bellissima Andro Porco Porco Corri Eia Non mi bicchiare Scusami l'emozione Butta il calabria dentro Ragazzi, dobbiamo trovare l'uscita Exit, exit, eccola No, no Non è questa No Dobbiamo trovare il portale Laggiù, laggiù vedo qualcosa di rosso Forse è qua C'era scritto un exit Io lo vi Non mi giro più Non mi giro più Dovremmo andare Dove? Era davanti a me Se mi becca mi metto a piangere tantissimo Ragazzi Dove siete? Qua, qua, qua Qua Dietro Qua dentro Ok Mi sa che c'è un altro di me Eh, sì No, bro, mi son rotto il ca... Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear that I'm Berry, you give me onen,indeer E hatte Lopin E E A A A A